Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale, oggi vi propongo un video all per quanto riguarda alcuni acquisti che ho fatto, sia per quanto riguarda Sephora sia per quanto riguarda Beauty Bay e vediamo vediamo se riesco a fare anche un altro video mi vedete truccata nello stesso modo ma ho cambiato la maglietta perché sono ritornata sono andata a prendere il caffè, sono ritornata e ovviamente ero tutta sudata quindi ho dovuto togliere la maglietta e metterne un'altra ma mentre sono truccata sinceramente preferisco fare un altro video perché sennò poi non ci riesco ho tante altre cose da fare quindi mi faccio la settimana completa allora per prima cosa vi faccio vedere Beauty Bay cosa ho acquistato da Beauty Bay ho fatto un ordine perché c'erano degli sconti questi sconti erano riferiti a dei prodotti molto molto particolari quindi ve li faccio vedere, non so se si riesce a vedere prodotti che di norma io non ho mai acquistato e che di solito io non guardo perché sono dei prezzi un pochettino più alti del solito che io di norma spendo e quindi non li ho mai presi se volete sapere per quanto riguarda questo make up poi dipende da come diciamo metterò i video lo vedrete prima o dopo comunque ve li metterò poi nella scheda allora ho preso alcuni prodotti posso dire che è un prodotto soltanto, non è di un brand e poi tutto il resto sì infatti allora la prima cosa che vi faccio vedere è questo lipstick ed è Fantastic di Linda Helberg a me piace tantissimo questa ragazza che è una truccatrice ovviamente e mi piace tantissimo sia come si trucca fa dei trucchi veramente pazzeschi da rimanere veramente scioccati il packaging della confezione è questo con tutte le bocche e tutte queste sagome molto molto carine vedete come morde la bocca? bellissimo e questo si chiama Pop a me è piaciuto tantissimo quando l'ho visto è stato l'unico rossetto che in quella fringe diciamo di sconti mi piaceva questi erano sconti fino al 70% dipende cosa prendevate e ne ho voluto approfittare il packaging è così a bussolotto a siluro molto carino di un colore tipo metallo con la H del brand e il colore è questo e il colore è questo ditemi voi se non è un colore che mi rispecchia tantissimo ed è molto molto bello ve lo sguoccio perché ovviamente io lo amo questo colore ed è questo proprio identico alla mia maglietta quindi è perfetto molto molto buono ne ho sentito parlare bene di questi rossetti quindi almeno uno lo volevo prendere non ho preso altri colori perché sinceramente ormai ho tantissime cose preferisco prendere tipo una cosa più selezionata per quanto riguarda diciamo i rossetti poi andiamo alla marca principale di questo brand che ho preso che è la Ofra allora io ho preso per prima questa palettina perché volevo provare questo brand è un brand abbastanza prestigioso è alto come prezzo anzi vi dico quanto è costato il lipstick 10,75 euro invece questa qui è costata 17,50 euro questa palettina ed è una palettina di Ofra io ho altre avevo altre cose nel carrello perché mi piaceva tantissimo come brand però avendo dei prezzi abbastanza alti non ho mai controllato allora ha uno specchietto quadrato così e poi ha questi ombretti c'è questa come custodia e questi non ce l'ha e questi sono i colori allora sono dei colori pastello e sono tutti shimmer come si vedono a me sono piaciute tantissimo perché spesso mi capita di cercare determinati prodotti sono anche come si dice che si possono anche togliere mettendo un ferro all'interno aspettate che ve lo faccio vedere vedete prendete la geldina e la togliete perché è calamitata quindi vi potete fare la vostra palettina come più vi aggrada e questi sono i colori che ho preso cioè la palettina era completa io l'ho presa direttamente così questi sono veramente sono setosi veramente setosissimi e questa è la palettina molto molto bella aspettate che la chiudo e vi faccio gli swatch molto scrivente ne parlano tutti benissimo e infatti come si vede come scrivenza non possiamo dire niente dobbiamo stare solo zitti ed è molto molto bella anche questa poi andando avanti ho preso altri prodotti sempre di Ofra ovviamente se abbiamo detto che ho preso qualcosa e ho preso tre prodotti tra virgolette grandi in full size e tre in mini size che sono questi qua sono ottimi cioè io ve li faccio vedere allora quelli piccoli vi dico già i prezzi quelli piccoli si oscillano oscillano tra il vabbè il blush ve lo dico a parte dai allora sono tre highlighter questi sono tre highlighter al costo di 14 euro e 50 ciascuno questi 14 e 50 ciascuno il più famoso di tutti e non mi ricordo se è quello di di niki tutorial non mi ricordo se è questo o questo qui space baby comunque uno è associato a niki tutorial l'altro ha madison miller e l'altro invece è highlighter beverly hills si allora uno è madison miller e uno è di niki tutorial allora scusate ma chiudo la palettina bene se no si rovinano gli ombretti allora questo è un highlighter e questo si chiama beverly hills vi scriverò poi i nomi le scatoline sono così sono molto molto carine questo è il packaging esterno bianco semplicissimo e questo è la confezione ve la faccio vedere da vicino questa è la confezione con la scritta opra e il nome dell'highlighter ha uno specchietto che dovete togliere l'adesivo e questo è l'illuminante allora potete anche salutare qua perché è bellissimo è stupendo veramente stupendo vi faccio lo swatch di ogni singola cialda se riesco è bellissimo questi sono gli swatch aspettate che ve li faccio vedere questi sono gli swatch e sono uno più bello dell'altro lo metto qua 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 e qua questi sono gli swatch si vedono? si eccoli qua questi sono gli swatch dell'illuminante veramente molto molto bello cioè mi sbaglio dovrebbe essere il più famoso per quanto riguarda opra queste erano cose che veramente non potevamo non potevano perderli poi abbiamo sia shimmer che dovrebbe essere in collaborazione con Madison Miller questo sempre il packaging è uguale all'altro e vi faccio vedere il nome Madison Miller ecco qua e questo è il colore cioè guardate e apprezzate è stupendo veramente stupendo mamma mia è una cosa pazzesca e questo è il colore è un champagne molto molto bello e ve lo faccio qua lo swatch e questo è il colore stupendo ma il mio preferito ovviamente è quello di Niki Tutorial che si chiama Space Baby quando l'ho visto è stato il primo che ho messo nel carrello la confezione è sempre uguale e questo Niki Tutorial Collaboration e il colore è questo è bellissimo stupendo mi piace tantissimo cioè è un colore è un duo chrome bellissimo cioè che ci dovete dire guardate qua ha dei riflessi pazzeschi delle cangianze li potete utilizzare anche come ombretti e ve lo metto qua ecco già si vede da lontano che è questo già si vede da lontano cioè ditemi voi se non è molto molto bello e questi sono per quanto riguarda l'highlighter quelli grandi poi ho preso altri dove altri highlighter però sono quelli piccolini cioè ho preso un highlighter piccolo che è costato 9,75 ed è Beastful dove è Beastful questo e poi ho preso due blush allora questo è il pegajin piccolo ovviamente la differenza è così questa è quella grande questa è quella piccola la colorazione è Beastful il pegajin ovviamente è così tipo la differenza è questa e il colore è questo stupendo anche questo questo è sempre una specie di champagne molto molto bello però ve lo metto qua così vedete anche la differenza con il primo ed è questo ovviamente io la differenza la vedo il primo che vi ho questo è più dorato e questo è più bronzato ma sono tutte e due stupendi e poi ho preso due blush come vi ho detto il primo è costato 7,50 il secondo 5,50 allora questo è costato 7,50 ed è un blush vi dico ecco ed è questa colorazione camaleon e il blush in questione è questo ed è un color carne un color carne molto molto bello questo fa le guance abbastanza rosate ed è una cosa che gradisco in questo periodo ed è questo vedete è un color carne e il mio ovviamente preferito è charm adesso ve lo faccio dare subito subito ed è questo il nome charm e il colore è questo ed è un biscotto color biscotto adatto 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 a questo periodo estivo ed è proprio un color biscotto questo assomiglia a quelli di di inglot ed è questo vedete avere le braccia passenti cosa fa avete più spazio e questi sono illuminanti vedete wow sono bellissimi bellittimi bellittimi e questi sono gli acquisti fatti da beautybay sinceramente a me piacciono tantissimo perché io questa marca non l'ho mai 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 utilizzata non l'ho mai presa ed ero molto curiosa di provarli quindi sono rimasta molto contenta di questo acquisto niente ragazzi che dirvi di più scrivetemi un commentino se avete già utilizzato questi prodotti se vi piacciono i prodotti di ofra e se volete vedere ovviamente un make up per quanto riguarda sia la palettina per quanto riguarda gli ombretti e poi l'illuminante quindi vi farò qualcosa tipo blush illuminante comunque devo sistemare la postazione un bel poio di cose niente ragazzi ditemi ovviamente cosa ne pensate se vi piacciono o non vi piacciono aspetto i vostri commenti e noi come sempre ci vediamo al prossimo video quindi come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao